Le molecole di una sostanza in una reazione chimica acquistano o perdono atomi. Vi sono quattro tipi fondamentali di reazioni chimiche. La reazione di sintesi, in cui si forma un composto mediante la combinazione di due o più sostanze. La decomposizione, in cui un composto si scinde in sostanze più semplici. La sostituzione, detta anche scambio semplice, in cui un composto perde elementi che vengono sostituiti da altri. La doppia sostituzione, o doppio scambio, in cui due composti si decompongono scambiandosi atomi. Vengono così generati due nuovi composti.